Siamo in Piazza Santa Teresa dove da questa mattina c'è una sit-in dei lavoratori del gioco pubblico legale sostenuti ovviamente dai loro sindacati, sindacati che provano a far rispettare ovviamente tutto quanto concerne la possibile riapertura di un settore che è fermo da 300 giorni, tra l'altro la breve parentesi della scorsa estate. Andiamo velocemente con il sindacato e andiamo a chiedere che cosa urlate in maniera civile a chi di dovere. Noi siamo qua per protestare perché diciamo a supporto di una manifestazione a livello nazionale soprattutto per avere certezza sulle riaperture. L'impressione è questa che si stia in qualche modo condannando questi lavoratori ad una chiusura forzata prospettando delle categorie morali che onestamente non hanno modo di trovare una loro fondatezza. Questi lavoratori sono 150.000 in tutta Italia, lo ricordiamo, hanno diritto di ritornare a lavorare. In questo periodo il rischio è che oltre a non garantire una fonte di reddito ai lavoratori che sono impiegati nel gioco legale rischiamo di favorire quello che è il gioco legale. Per cui abbiamo la necessità, dati i protocolli che abbiamo sottoscritto con le associazioni datoriali e con le imprese, di riaprire e riaprire in sicurezza perché le condizioni ci sono. Una voce che fino a questo momento non è stata ascoltata molto dal governo centrale, quella dei lavoratori del gioco pubblico di Stato, fermi da oltre un anno senza stipendio e con gravi difficoltà. Sì, parliamo in tutta Italia di 150.000 lavoratori, di cui 20.000 in Puglia, quindi parliamo di tanti giovani, donne, uomini, padri di famiglia che ormai da oltre un anno sono senza lavoro, da oltre un anno sopravvivono con la cassa integrazione che arriva a Singhiozzi e quindi mi sembra opportuno in questo momento chiedere a gran forza, qui in Puglia, alla Prefettura, al governo di riaprire il mondo del gioco legale di Stato. Grazie a tutti.